Gentili telespettatori, buona giornata. C'è caos nelle televisioni italiane e nei programmi soprattutto di centro-sinistra e anche nella tv di Stato. Perché? Ci sono delle indiscrezioni che inquietano molti conduttori televisivi, tra questi anche Lilly Gruber, proprio per l'arrivo del governo di Mario Draghi. Preoccupati i talk politici, cioè quelle trasmissioni che parlano di politica. L'ex governatore della Banca Centrale Europea, Draghi, sale, scioglie la riserva. Un passo che semina il panico in tv. Ma perché dovrebbe seminare il panico in tv? Come ricorda il Corriere, tutti, chi più chi meno, dovranno rivedere la loro politica. Parliamo della televisione, dei programmi che parlano di politica anche principalmente. Una sorta di riposizionamento. Ad esempio, su Rete4 erano schierati più sulla Lega di Matteo Salvini. Adesso che la Lega di Matteo Salvini è diventata europeista, possiamo dire così, punto di domanda, sui giornaloni si chiedono cosa faranno su Rete4. Ma non c'è confusione solo sulle reti Mediaset. Il sito d'Agospia parla di una redazione nel caos, proprio per descrivere la situazione sulla 7. O meglio, come la definisce Dagospia, Dago, telefatto quotidiano. Eh sì, perché Aldo Grasso si chiede se Marco Travaglio, nonostante l'uscita di Giuseppe Conte, lui che è l'ideologo dei grillini, avrà ancora tutto lo spazio di cui ha goduto finora sulla 7. Magari proprio da Lilly Gruber a 8 e mezzo, dove era ospite fisso, il livore di Travaglio, l'odio contro Salvini, Meloni, Berlusconi, su Berlusconi lui ci ha costruito la sua carriera, ospite fisso per fare da spalla Lilly Gruber. E poi si passa alla RAI, radio televisione italiana, la TV di Stato. Sono in angoscia perché non sanno come comunicare direttamente con Draghi. E beh, insomma, lo schema, i programmi di Mario Draghi agitano i talk politici. Forse li renderanno meno verbosi, dicono. Beh, chi si preoccupa maggiormente però dicono, questo non lo dico io, ho preso da delle fonti giornalistiche abbastanza accreditate, chi si preoccupano di più sono proprio alla 7. Perché ogni sera andava in onda Andrea Scanzi a favore di Conte, la predicozza di Travaglio sui leggendari 5 Stelle e sul grandissimo Conte? Beh, addirittura, attenzione, lui, Travaglio, ha avuto cento, attenzione, 184 presenze dalla Gruber, 184. Ormai è di famiglia, no? Andrà a casa della Gruber a Natale, ormai uno con 184 presenze. E poi c'è Beppe Severgnini del Corriere della Sera, 129 apparizioni. Il Corriere della Sera ovviamente filo governativo, no? L'avete visto con i loro sondaggi, con i loro sondaggi Ipsos, no? Dove parlavano di Conte come il più amato dagli italiani, come la Scavolini, no? E poi seguito da Speranza, Speranza amatissimo dagli italiani, lo vorrebbero a cena tutti in Italia, Speranza. Adesso nei sondaggi Speranza è sparito, come? Da più amato degli italiani dopo Conte c'è più, non c'è più. Forse non c'era neanche prima, e forse Conte non ha mai avuto quel 60% costante che raccontava Ipsos sul Corriere della Sera, ma chi lo sa? Beh, e poi abbiamo Scanzi, un altro vero odiatore di Meloni e Salvini, 127 presenze dalla Gruber. Ma poi abbiamo un altro, abbiamo anche il fondatore del quotidiano Antonio Padellaro, con 118 puntate al suo attivo. E adesso cosa farà la Gruber? Eh? Che farà? Inviterà Vittorio Feltri, non lo so, Nicola Porro, Del Debbio, che farà adesso? Eh? Quindi, insomma, diciamo che naturalmente quando cambiano i governi cambiano anche le direzioni politiche nei vari, nei vari appunto, diciamo così, programmi che parlano di politica. Quindi vedremo che cosa succederà anche in questo caso. Beh, parlando sempre di otto e mezzo, Sallusti se la prende con i ragionamenti di travaglio e li smonta pezzo per pezzo e dice Dove era lo stupore di Marco Travaglio quando il Movimento 5 Stelle si è alleato con la Lega? Così Sallusti interviene otto e mezzo, ospite in collegamento di Lili Gruber insieme al direttore del Fatto Quotidiano, con il quale Sallusti ha permesso di essere d'accordo, ha premesso di essere d'accordo nella critica alla scelta di 5 Stelle di appoggiare il governo di Draghi, dato che significa sedersi allo stesso tavolo con Berlusconi e Matteo Renzi. Dice È un bene che grillini siano dentro la maggioranza o è un male, come ha detto Travaglio? È stata la domanda di Lili Gruber. E Sallusti dice Io condivido la sua analisi, che poi però ha subito riservato una stoccata al collega. Dice Ma mi chiedo dov'era negli ultimi tre anni, perché il famoso marziano che lui ha evocato credo che sarebbe stato stupito nel vedere i grillini allearsi con la Lega E se lo sarebbe stato ancora di più un anno dopo nel vederli allearsi con il PD Ecco, il ragionamento di Feltri è questo. Come? Insomma, prima si allega con la Lega, poi con il PD, il partito di Bibiano, quella casta Il Movimento 5 Stelle nasce per combattere il PD, principalmente, che in loro identificavano la casta. Dice Ma adesso diventa il male assoluto Berlusconi, che è innocuo lì con il suo 6%, che non fa male a nessuno, con i suoi problemi di salute, eccetera, eccetera. Adesso la mostruosità è che ci sia forza Italia in un governo aperto a tutti, poi. Quando poi, come giustamente dice Feltri, vi siete alleati con Lega e con il PD e lì Travaglio non si è mai scandalizzato Va bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo adesso anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube Teleitalia Seconda Rete. Arrivederci a tutti